Un paio di pantaloni con macchie di sangue sarebbero stati trovati dalla polizia sull'auto che aveva condotto da Piacenza a Genova il 25enne cinese soprannominato Sushi, sospettato di aver assassinato mercoledì pomeriggio il capocuoco cinese Zhu Aiting di 53 anni. Il delitto era avvenuto all'interno del ristorante Sushi Walk di via Passerini a Piacenza. I pantaloni con macchie di sangue saranno sottoposti ad analisi e potrebbero costruire un'ulteriore prova a carico del sospettato. Il sangue potrebbe essere infatti quello della vittima che è stata assassinata con un coltello da sushi con una lama lunga 25 centimetri. Non è però escluso che il sangue sull'indumento possa essere dello stesso cinese fermato a Genova. Il giovane aveva infatti un taglio ad una mano compatibile con un colpo di coltello sferrato alla vittima. La mano del presunto assassino nell'atto di sferrare con forza la coltellata potrebbe essere scivolata sulla lama provocando la ferita. Le indagini proseguono. Grazie a tutti.